In questa guida ti spiegheremo come acquistare una licenza split sul sito del prodotto DeFiU con TokenWin. Ricorda che per gli acquisti effettuati in TokenWin non vengono conteggiati nel fatturato. Vai su https.defiu.com. Nell'angolo in alto a sinistra clicca su Sign in e accedi. Si aprirà una dashboard. Scorri la pagina e vedrai l'elenco delle licenze disponibili per l'acquisto. Seleziona la licenza desiderata e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Si aprirà una finestra che ti chiederà di selezionare un metodo di pagamento. Dopo aver selezionato il TokenWin, conferma l'accettazione dei termini e delle condizioni selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Nella finestra che si aprirà saranno indicati l'importo InWin e l'indirizzo del wallet a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche come codice QR per effettuare la transazione dall'applicazione mobile. Per pagare, invia l'importo richiesto al wallet specificato. Invia l'importo esatto che visualizzi sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. La licenza acquistata verrà visualizzata nella sezione My Licenses. A questo punto è necessario attivarla. Per farlo, vai alla sezione del menu My Licenses, trova la licenza acquistata e clicca sul pulsante Activate. Attiva. Se vuoi visualizzare la cronologia dell'attivazione, clicca sulla scheda Activation History, Cronologia attivazioni. Nel caso di dubbi, puoi sempre inviare le tue domande al nostro team di assistenza.